Grazie Presidente, io cercherò di fare un'unica ristrazione di tutti gli emendamenti dal 21 al 27 che riguardano lo stesso articolo, il 4bis, in realtà rispetto alla modifica proposta inizialmente questi articoli vanno a riproporre alcuni dei contenuti, quasi la totalità dei contenuti dell'articolo originale, ma con alcune innovazioni come ad esempio le giuste denominazioni intervenute dall'approvazione della delibera delle sovrintendenze che hanno cambiato appunto denominazione. Quindi non è un elemento di contenuto importante, ritengo questi emendamenti importanti appunto perché vanno a tener conto delle denominazioni e a tener conto anche dei pareri degli uffici che avevano appunto voluto il ripristino dei pareri obbligatori e preventivi, come erano appunto, quindi viene ridenominato l'articolo in preventivi obbligatori, vengono riportate queste parole nel testo, vengono cancellate alcune parole che avevano chiesto gli uffici di poter rimuovere perché evidente potevano generare ambiguità. Grazie Presidente.